Musica Nuova giunta lucana, le novità Profughi ucraini a titol hub regionale di accoglienza temporanea gestito dalla protezione civile della Basilicata Trasporto pubblico a potenza, si è tenuto un incontro tra il sindaco Guarente e i sindacati di categoria per sbloccare la situazione d'impasse Dal 10 al 12 marzo a Matera, le tre giornate di preparazione al congresso eucaristico nazionale Torna su TRM Network il mio parco In apertura la politica regionale è ancora attesa per la nuova giunta, si attende l'intesa e sono ore decisive Proseguono a Roma le trattative per la nuova giunta regionale Dopo giornate di attesa, accordi saltati e riunioni fiume, si potrebbe arrivare nelle prossime ore a una decisione risolutiva Tanto auspicata che possa rilanciare, come richiesto da molti, in primis dalle minoranze L'azione amministrativa dell'ente di Viale Verrastro Il governatore Lucano, nella capitale, starebbe dialogando con il segretario regionale della Lega, Roberto Marti E con il commissario regionale di Forza Italia, nonché sottosegretario all'editoria Giuseppe Moles Forza Italia Basilicata, soltanto ieri, chiedeva per la giunta di riconfermare Leone Cupparo Ma a poche ore dalla nota diffusa su Facebook, lo stesso Cupparo, assessore Lucano alle attività produttive uscente Ha comunicato al presidente della regione Basilicata la volontà a non riproporre la sua presenza in giunta A auspico ha precisato che il mio gesto serva a sbloccare una situazione che si protrae da troppo tempo E che le nostre comunità, i nostri territori, non possono permettersi Potrebbe essere sempre Forza Italia indicare un assessore donna Tra le papabili, molti guardano all'amministratrice di sviluppo Basilicata, Gabriella Megale In area Lega le ipotesi vertono invece sulla figura di Massimo Zullino Per Fratelli d'Italia da mesi si parla di Cosimo Latronico, il quale però non sarebbe intenzionato ad accettare l'incarico Tra poche ore la situazione dovrebbe delinearsi e ogni nodo essere sciolto Si attende l'arrivo di profughi dall'Ucraina a Tito Lab regionale di accoglienza temporanea Gestito della protezione civile Sarà il piazzale antistante, il centro per la creatività Cecilia e stadio Mancinelli di Tito nel Potentino Ad ospitare l'Hub regionale della protezione civile per l'accoglienza temporanea fino a 72 ore Dei rifugiati provenienti dall'Ucraina E quanto emerso in mattinata in seguito alla riunione operativa delle scorse ore in regione Basilicata Il commissario per l'emergenza, nonché governatore Vito Bardi Pronto a firmare la nomina dei tre soggetti attuatori Il dirigente della protezione civile Giovanni Di Bello Ed i direttori generali delle aziende sanitarie di Potenza e Matera Rispettivamente Giampaolo Stopazzolo e Sabrina Pulvirenti In base al piano nazionale, atteso il numero di persone in arrivo Principalmente donne e bambini Da identificare e sottoporre a screening sanitario Fino al 31 marzo, per i rifugiati ucraini non sarà necessario il Green Pass Il checkpoint è già attrezzato per questa ricezione Con anche la gestione dei trasporti di questi migranti Il tempo è del riconoscimento dell'attribuzione del codice STP per l'aspetto sanitario Quindi l'ingresso è il trasporto dei migranti presso strutture di accoglienza successive I CAS nei vari comuni oppure poi eventualmente strutture pubbliche che si dovessero rendere disponibili Questa gestione durerà per ora, fino al 31 dicembre 2022 Per cui le associazioni di volontariato a rotazione dovranno gestire il campo Intanto, mentre all'ospedale San Carlo è previsto il parto di una donna di 25 anni Fuggita dalla guerra e arrivata martedì nel capologo Lucano Dopo tre giorni di viaggio In piazza Matteotti, manifestazione studentesca per chiedere pace Tanti slogan e striscioni per ribadire condanna al leader russo Putin E vicinanza alla popolazione colpita Contenti che a Tito verranno accolte parte della comunità ucraina Che è in esodo dalla propria nazione E il nome di questa piazza dedicata a Giacomo Matteotti Che ci ricorda che cosa hanno significato le guerre e gli scontri Noi comunità studentesca ci siamo, non potevamo mancare E senza ambiguità oggi siamo in piazza Trasporto pubblico a potenza, incontro tra il sindaco Guarente e i sindacati di categoria Luigi Di Tella, incontro in commissione sul tema trasporto pubblico urbano Da un lato l'esigenza di ricevere risposte dal sindaco Guarente sul tema stipendi arretrati Dall'altro la prosecuzione del servizio Una volta che la proroga sarà scaduta è il 31 di marzo Sì infatti si discute prioritariamente sulla questione stipendi Però il problema principale è capire che cosa succede dopo il 31 marzo Io penso che questa amministrazione non abbia ancora le idee chiare Perché ripropone quello che più volte è stato riproposto Cioè l'affidamento previa manifestazione di interesse a un altro soggetto Che secondo me in queste condizioni e con questi costi non verrà mai La situazione attuale è di uno stipendio non versato E del secondo stipendio maturato che deve essere liquidato entro il 20 Quindi diciamo di circa due stipendi Siamo nell'ordine di 130 dipendenti Il problema principale in questo momento è che non c'è un'idea di investimento per questo comune E quindi questo ne risente anche dal punto di vista occupazionale Faccio un esempio, il ponte attrezzato in questo momento è chiuso 10 lavoratori sono in ferie forzate Questo è anche un'anomalia da capire Perché se la riapertura non è a breve Queste 10 persone esauriranno le loro ferie Nella sua disamina fatta ha illustrato quelle che sono le criticità Però non ci ha fatto capire quali sono le soluzioni Se le soluzioni è sperare nell'affidamento di un nuovo soggetto Io penso che la solita minestra riproposta che non porterà a nulla Dalla CNR di Tito, borse di studio per i ricercatori ucraini Stamattina abbiamo osservato un minuto di silenzio Nell'area di ricerca di Tito, del CNR Per manifestare solidarietà e non rimanere indifferenti agli eventi bellici Che stanno colpendo le popolazioni dell'Ucraina Peraltro, proprio per essere anche un po' più proattivi In particolare riferimento anche alla comunità scientifica dell'Ucraina Con cui abbiamo contatti e rapporti L'Istituto di Scienze e Patrimonio Culturale Ha deciso di bandire delle borse Degli assegni di ricerca a ricercatori dell'Ucraina Che lavorano nel campo delle tecnologie e delle metodologie scientifiche Applicate al patrimonio culturale Che saranno ospitate da noi Avendo una foresteria Nell'area di ricerca del CNR di Tito Il punto sul Covid in Basilicata Sono 611 positivi emersi nelle ultime 24 ore Dopo l'esame di 3031 tamponi molecolari e antigenici Lo ha reso noto la Task Force sulla pandemia Aggiungendo che sono state registrate altre 1517 guarigioni Negli ospedali lucani sono ricoverate 88 persone Tre meno di ieri Delle quali solo una al San Carlo È curata in terapia intensiva Per conto riguarda le vaccinazioni Ieri ne sono state effettuate 630 E il 61,9% dei lucani ha ricevuto la terza dose La città di Matera si prepara Al congresso coristico nazionale di settembre Da domani tre giorni Con 100 delegati Proprio in preparazione a questo importante appuntamento Oggi la presentazione del programma Una chiesa in cammino che converge a Matera Città pronta a accogliere Pronta a partire per diffondere un messaggio all'intera comunità 100 delegati provenienti da tutta Italia Si ritroveranno da giovedì 10 marzo per tre giorni Nella città dei Sassi Per fare i propri contenuti del congresso nazionale di settembre Elaborare proposte E visitare i luoghi più significativi Una tappa fondamentale del cammino sinodale della chiesa italiana Un momento contemplativo per celebrare insieme l'eucarestia In un contesto storico particolarmente difficile Arriveranno oltre 100 delegati da tutta Italia Dalle diocesi italiane E quindi avremo modo di riflettere insieme a loro Soprattutto di presentare tutto quello che è il lavoro Che abbiamo svolto fino adesso Quello che è il senso e il significato del tema Che abbiamo scelto E quindi ci confronteremo insieme Nello stesso tempo anche avere la possibilità Di visitare i diversi luoghi E condividere anche momenti culturali Momenti di fraternità Che ci permettono anche di godere Di quello che è lo stile tipico nostro materano E quindi della Basilicata Da giovedì 10 marzo fino a sabato mattina 12 marzo Saranno qui a Matera circa 100 delegati Delle diocesi italiane Questi delegati sono appunto delegati dai loro vescovi A prendere visione di quello che sarà Il congresso eucaristico Come lo stiamo preparando I luoghi che saranno il teatro Delle giornate congressuali Del prossimo 22-25 settembre In questi giorni loro arriveranno a Matera Avremo degli appuntamenti di riflessione A partire da giovedì pomeriggio Dove vi sarà una prima relazione Sulla storia dei congressi eucaristici Per entrare insomma in quello che è questo evento Che ha una certa storia Nella Chiesa internazionale e nazionale E' il 27esimo che si svolge in Italia Il congresso eucaristico nazionale E' una tappa fondamentale di questo itinerario Che si configura come il momento contemplativo Abbiamo detto del cammino sinodale Questo mi sembra un aspetto molto interessante Il Comune di Potenza riattiva il Forum dei Giovani Il 2022 è l'anno europeo dei giovani Il Comune di Potenza dalla prossima settimana Ha calendarizzato una serie di incontri Per far conoscere il Forum dei Giovani Strumento di partecipazione e incontro Dal 10 marzo sul sito internet dell'amministrazione Nella sezione Aria e tematiche giovani Attivo il bando di partecipazione Assessore Rotunno può illustrarci di cosa si tratta Il Forum è stato istituito con regolamento nel 2015 Dopodiché attraverso tutte le procedure Che sono molto articolate, molto lunghe Ma servono a non lasciare nessuno indietro Venne eletto il Forum nel 2017 Doveva essere rinnovato come prevede il regolamento Dopo tre anni ma non è accaduto Poiché questo è l'anno europeo dei giovani Io mi sono attivata già da qualche mese Per cercare di ripartire con il Forum Con l'intenzione di non fermarmi soltanto a questo Il Forum è costituito da 7 rappresentanti Scelti e eletti Tra i rappresentanti degli istituti Delle scuole superiori della città 3 rappresentanti del consiglio Degli studenti dell'università Poi da 10 rappresentanti delle associazioni Che hanno tra gli iscritti Almeno il 50% di ragazzi tra i 15 e i 25 anni E poi la cosa più interessante È la possibilità che possono avere tutti i ragazzi Come singoli individui Di iscriversi al Forum Attraverso un canale che sarà attivato Sulla pagina dei giovani sul sito E entrare nel Forum di diritto E nell'Assemblea Generale E poi potersi anche candidare Per essere eletti tra i 10 rappresentanti di questa fascia L'obiettivo è quello di innanzitutto Rendere i ragazzi protagonisti Delle politiche che li riguardano Raccogliere le loro estanze Le loro riflessioni Le loro proposte E poi portarle nel consiglio E consentire che queste possano essere Poi accolte La volontà è anche quella Di spingere i ragazzi Che ancora non l'hanno fatto Ma anche quelli che già lo fanno Attraverso le associazioni Attraverso altri canali Di diventare cittadini attivi E di riavvicinare anche le istituzioni ai ragazzi Torna il mio parco Alla scoperta del parco della Murgia Materana Azione formativa destinata alla comunità Promossa dall'ente parco della Murgia Materana Per diffondere le peculiarità di un luogo Dall'inestimabile valore ambientale Ampliando la conoscenza e rispetto del territorio Attraverso un percorso graduale Organizzato in annualità Il secondo ciclo del corso Avviato nel 2020 In forma sperimentale Sarà fruibile online E consentirà di diventare Tutore del parco Le lezioni saranno visibili Anche per i semplici curiosi Mediante il coinvolgimento di TRM Network Che ha curato anche quest'anno La produzione di 10 video lezioni Questi gli orari di programmazione A partire dal 9 marzo Così come vedete in sovraimpressione Intanto in questo spazio di telegiornale Vediamo una breve anticipazione Venite Venite a Matera Perché questo è un luogo speciale Io sono un biologo Francesco Petretti Ma oggi mi sono occupato In questa lunga camminata Di tanti aspetti Anche legati alla storia dell'uomo Perché in fondo Il parco della Murgia Materana È anche questo Il luogo dove Per tanti secoli Si è sperimentato con successo Un connubio Fra uomini e natura Ed è veramente difficile Dire dove finisce l'una E dove comincia l'altro Tanto compenetrati Sono questi aspetti Da vedere Da toccare con mano Ci fermiamo qui Grazie per averci seguito Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti